Musica Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai Giornali Come sempre iniziamo insieme la mattina, il sabato insieme a me Sono le 7 e 30 da poco passate e quindi come sempre sfoglieremo i quotidiani, i giornali Il resto è il Carlino e il Corriere Adriatico, già caricati nel formato PDF qui a nostra disposizione E quindi vedremo le notizie principali che troveremo poi appunto nell'edizione cartacea in edicola Che insomma sarà a vostra disposizione, però tanto per iniziare come sempre guardiamo l'almanacco del giorno E poi le previsioni del tempo Allora, oggi è sabato 3 settembre, è San Gregorio Magno Il sole è sorto alle 6 e 34 e tramonterà alle 19 e 41 Giornate sempre più corte che si vanno accorciando D'antronde è così E vediamo le previsioni del tempo per oggi, per le prossime 48 ore Oggi il cielo è sereno, poco nuvoloso per il transito di velature Però nel pomeriggio precipitazioni assenti e temperature in lieve aumento Vedete nella nostra provincia il sole è pieno, non ci sono neanche la simbologia delle nuvolette Stessa cosa per domenica, praticamente una giornata a copia a carbone Il sole è sereno, poco nuvoloso, senza alcuna precipitazione Le cose cambiano però drasticamente Lunedì, lunedì vedete, proprio cambia completamente anche la simbologia Nella cartina della protezione civile Il cielo sarà nuvoloso e molto nuvoloso Anche precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e di temporale E anche con forte intensità a livello locale Fenomeni però che si andranno esaurendone nel corso del tardo pomeriggio Temperature in marcata, non potrebbe essere altrimenti diminuzione Sia dei massimi, mentre nei minimi sono stazionali Quindi ci sarà anche un brusco calo delle temperature Quale sarà la tendenza della settimana? C'è una permanenza di questa circolazione ciclonica Che favorirà condizioni di instabilità per il resto della settimana Quindi dal punto di vista meteorologico Un ultimo weekend bello E poi ci sarà come sempre un po' il tracollo E gli acquazzoni porteranno via gli ultimi scampoli d'estate Guardiamo velocemente le pagine dei giornali Partiamo dal Corriere Adriato Vi faccio vedere subito la pagina di apertura dell'inserto Che riguarda la provincia di Pesero Al centro le notizie che riguardano il terremoto In 1755 nelle tendopoli case di legno Fra sei mesi Intanto il maltempo è in arrivo E questo non agevola sicuramente le operazioni dei volontari E la permanenza e la vivibilità di quei posti Per gli sfollati Nuovo sviluppo con il piano del mare Siamo al porto di Pesero C'è stato il cambio del comandante del porto Dopo vedremo anche chi è E poi scontro sull'ospedale unico a Fano Si rischia la crisi politica E vediamo appunto ripresa nelle pagine successive Andiamo seguendo l'ordine di impaginazione del giornale Partiamo dalle pagine di Pesero Ordine, sicurezza e sostenibilità Ecco come sarà il porto di Giorgetti Giorgetti il nuovo comandante del porto Che insomma subentra al posto di Capuzzimato Che va a Roma E quindi si è insediato appunto in questi giorni E Ricci il sindaco dice Continueremo a collaborare per la trasformazione del porto Una cerimonia solenne come vedete Al porto Ancora il sindaco di Pesero Matteo Ricci Che mostra una orgogliosa carta di identità Carta elettronica Quindi addio Vecchia carta di identità In formato cartaceo E in arrivo quella elettronica Quindi novità in termini di anagrafica Fornendo le impronte digitali E sarà consegnata via posta La pagina di Fano Insomma il fil rouge della pagina fanese Degli inserti fanesi Un po' di tutti e due I quotidiani puntano sulla crisi Che ci sarebbe presunta Reale Virtuale Tra Seri Il sindaco Seri E il PD E quindi l'articolo Punta appunto di apertura su questo Seri richiama all'ordine Il PD Minacciato il ritiro delle deleghe Tensione alle stelle Ora si rischia la crisi Per la giunta La priorità resta Chiaruccia Quindi vedete il rendering Dell'ospedale Naturalmente virtuale Su Chiaruccia E il principale partito Di alleanza Dell'alleanza fare città Intacca la lealtà politica Contradicendo gli atti Amministrativi E Google Map Dà ragione al sindaco E dice Attenzione Fatale di Minardi Attrazione fatale Di Minardi Per Fosso Seiore Ecco forse qui è riassunto Un po' Il concetto di questo Scontro Si parla anche di cronaca Di un fatto avvenuto Agli inizi della settimana Una lite Sfociata per un banale motivo Di precedenza non data Tra due automobilisti E poi uno dei Dei due Fa spuntare fuori Una pistola E la punta in faccia Del suo presunto Insomma Così Avversario Violenza Di un pesarese Con un diverbio Anche acceso Con l'altro Automobilista Spunta questa pistola Ma viene Rintracciato Siamo All'altezza Di Ponte Metauro La rotonda di Ponte Metauro E quindi gli uomini Del commissariato Di Fano Comandati Diretti dal dirigente Stefano Seretti Lo hanno subito Individuato E lo hanno denunciato Questa è la pistola Una pistola però Che era di plastica Era stato Eliminato Il cappuccetto rosso Che si trova qui E che dovrebbe Indicare appunto Che la pistola È una pistola Dovrebbe essere In questo punto Il cappuccetto rosso E quindi ecco Ve lo evidenzio Con gli evidenziatori A disposizione Sul touchscreen Dovrebbe essere lì Se viene rimosso Si può scambiare Per i non esperti Con una pistola vera E quindi insomma Con tutte le conseguenze Questo era stato fatto Ah tra l'altro È illegale Insomma Togliere il cappuccetto rosso La pagina di Valle del Cesano Si parla appunto Dalle rovine Alla sicurezza Abitativa Si deve passare Con urgenza La testimonianza Di chi c'è stato L'ex sindaco Di Orciano È partito All'alba Del 24 agosto Per le zone Colpite E i volontari Del Vigi del Fuoco Ad Arquata Del Tronto Dove appunto È presente Un campo Un campo Allestito Dalla protezione civile Di Fano Ed è il campo Che vedete In tutti i collegamenti Fatti A livello Insomma Di televisioni Sia locali Che nazionali E anche internazionali Ci sono troop Da mezzo mondo Senigallia La pagina di Senigallia È una pagina Che dà una buona notizia A coloro che hanno avuto Danni per l'alluvione Arrivano per posta I rimborsi Sono partiti Ieri mattina 1700 E lettere Mangialardi Il sindaco dice Adesso voltiamo pagina Archiviamo Questa brutta pagina E quindi Appunto Eccolo qua Ritratto in questa foto Dice Si può finalmente Riportare la serenità Tra i cittadini E speriamo veramente Che questa sia La parola Insomma L'atto Conclusivo L'ultima testata Vi faccio vedere Appunto Il resto del Carlino La pagina di apertura Del inserto Fotonotizia Per I funerali Di Massimo Anatrelli Morto nello schianto Di Pontevalle Si terranno oggi Al Miralfiore La sua band Medita Lo scioglimento Insomma Ciao Massi Addio Nel parco Poi appunto Anche qui A pie pagina L'Itestradale Tira fuori La pistola E insomma Queste sono Le notizie Principali Un'altra notizia Riportata appunto Nel titolo Di apertura E questa E avete visto Anche la foto La fotonotizia Serve l'anfitreatro Per dargli l'addio In tanti Vogliono dargli L'ultimo saluto L'abbraccio Di tantissime La foto Ritrae proprio La formazione La band In un momento Di concerto Alla festa Del porto A peso Massimo E questo qua Insomma Con tanto di parrucca E microfono Era così Lui è così E appunto Gli amici dicono Lo vogliamo ricordare In questo modo In quest'altra foto Però ecco È più riconoscibile E insomma Serve Anche questo Per dare il giusto Tributo A un amico E a un E a un artista Così scrive un amico Che io credo Che una cosa Deve finire qui E i super tele E appunto Lui e la sua creatura Li ha portati Con sé E il super tele Era È la band È la band musicale Dove Lui suonava Era il leader Era il cantante Era il fondatore Festa dell'unità Festa dell'unità A Pesaro Arriva Insomma Con un po' Di tensione Roberta Pinotti La ministra Titolare Del ministero Della difesa Parla di ospedali E di medicine In Libia Però i centri sociali La contestano Con fischi E striscioni Le pagine di Fano Le ultime Che vi faccio vedere Ecco vi dicevo appunto Notizia comune Questa crisi Vera Presunta Non si sa bene Ieri Insomma C'è stato L'incontro Con la delegazione PD E con i sindaci Della Valle Ed è proprio lì Nei sindaci Della Valle Che insomma Sta un po' La forza Di Seri Che cerca coesione Però non sono Dello stesso parere Udg E progetto Fano Che dice Molti sindaci Hanno già deciso La loro posizione Non gli salveranno La faccia Quindi non avrà Il supporto Secondo Udc E progetto Dei sindaci Dell'entroterra Per portare avanti Naturalmente Chiarucci Che rimane Per lui E per la sua giunta Il sito ideale Un sindaco Però non commenta Per evitare Strumentalizzazioni Su questa Su questa vicenda E Un esponente Del PD locale Nonché vice sindaco Stefano Marcheggiani Dice Ribadito Il nostro appoggio L'unico Obiettivo È di ottenere Il miglior risultato Per Fano E questo è il parere Di un esponente Importante Del PD A livello locale Le ultime due pagine Si parla di Brodetto Ieri è stata presentata La quattordicesima edizione Che dall'otto All'undici Riempirà Il Lido Con questa manifestazione Che è cresciuta Molto Negli anni Ci sarà La disfida Tra i cuochi Fanesi Non professionisti Si ritorna Un po' All'antico E gli chef Gli chef stellati E le star Dei cooking show Saranno a disposizione Di tutti Sul palco Tutti quanti Potranno vedere Appunto La loro maestria Ai fornelli E poi oggi Si inaugura L'Accademia Dello Spettacolo Insomma È la fusione Di due Di due associazioni Culturali Oltre il Sipario E Arte Danza Così hanno creato L'Accademia Dello Spettacolo E si inaugura Oggi Insomma Di lungo La liscia E ci sarà L'ospite D'onore Che Cledi Cadiu Domani Insomma Che è un ballerino Sicuramente Che tutti quanti Conosciamo Che ha anche Una storia Particolare Insomma Che lo riguarda Su come È arrivato in Italia E su come È passato Da un Momento di difficoltà Della sua vita A invece Un momento Di gloria Attraverso appunto Il ballo Chiudiamo con questa Bella pagina Bike Channel Sceglie San Costanzo Le telecamere di Sky Gireranno lunedì mattina E martedì Nella zona Questo canale Dedicato Alla mobilità In bicicletta Vedete qui Tutti i promotori Il sindaco La sindaca Pedinelli Proloco Insomma E poi Un progetto in comune Con Stacciola E Cerasa Tra sport E cibo E questo è valsa L'attenzione di questo canale Su San Costanzo E anche sul nostro territorio Quindi tutto Gioca anche a favore Di tutti quanti Ci sono attorno Al comune Di San Costanzo Bene Grazie per essere stati Con noi La signora stampa Termino qui Perché abbiamo anche Un palinsesto Un po' stringato Questa mattina Occhio ai giornali Torna lunedì mattina Alle 7.30 Puntuali Buon sabato E buon fine settimana A tutti voi